Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Salve, buon 2024, e vabbè, iniziamo quest'anno con buone speranze da ottimisti e posso dirvi che prevedo con la prossima primavera di fare molte passeggiate, anche perché l'anno 2024 è l'anno dei cammini. E un altro buon motivo per mettersi in marcia è dato dalla scienza. Passeggiare nei boschi, infatti, aiuta a combattere tristezza e pensieri negativi. Quello che per molti era già una certezza, ora è sancito anche dalla scienza. Quando siamo fra elementi naturali, alberi e verdi, il nostro battito cardiaco rallenta. La pressione si abbassa e l'umore migliora velocemente. Appena posto cerco di rifugiarmi dove c'è bosco, natura e verde, e possibilmente corsi d'acqua, per ritrovare la pace, camminare nei boschi, nella natura o in montagna, mi aiuta a scaricare la mente. E anche se non credo sia possibile risolvere i problemi con una passeggiata, diciamo che acquieta l'ansia mentale e riappiana i pensieri. Tutte le mie riflessioni che pubblico in YouTube nascono durante le mie molteplici passeggiate che molti di voi seguono e apprezzano ormai da qualche anno. riflessioni scaturite dai molti perché che spesso non hanno risposte. Il passeggiare nei boschi lungo torrenti e laghi su cime che di lassù si rimane senza fiato. Insomma, con tanta bellezza che ti avvolge, penso, rifletto, le detto al mio cellulare, poi le elaboro e le pubblico. Anche solo per curiosità andate a vedere i filmati che raccolgono queste mie riflessioni. sicuramente avrete delle risposte ai vostri perché e quindi buona visione. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per l'attenzione.